Sono 43 le liste presentate ieri in Corte d'Appello all'Aquila e che, salvo parere negativo degli uffici elettorali, saranno in competizione in Abruzzo per le elezioni politiche del 25 settembre. 22 alla Camera dei Deputati, 21 al Senato, poiché Forza Nuova ha presentato la lista solo alla Camera. Due le coalizioni, il centrosinistra con Partito Democratico, Impegno Civico, Sinistra Italiana Verdi e Più Europa, il centrodestra con Fratelli d'Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, lista unica per tutti gli altri competitors, Movimento 5 Stelle, il cosiddetto Terzo Polo, alleanza tra azione di calenda e Italia Viva, Unione Popolare, Italexit per l'Italia, Italia Sovrane Popolare, Noi di Centro, Alternativa per l'Italia, Vita, PPA Pensiero e Azione, Sud Chiama Nord, Gile Arancioni Unione Cattolica Italiana, Forza del Popolo per Lillo Musso Premier, Partito Animalista e Forza Nuova. Dai 21 parlamentari del 2018 a seguito della riforma, ora l'Abruzzo ne eleggerà 13, 9 deputati e 4 senatori. Rivisti anche i collegi, 3 per l'Uninominale alla Camera, L'Aquila Teramo, Pescara Costa Teramana e Chieti. Collegio unico Abruzzo per il proporzionale alla Camera e per uninominale e proporzionale al Senato. La circoscrizione Abruzzo eleggerà 3 deputati e un senatore con l'uninominale, 6 deputati e 3 senatori col proporzionale per gli elettori, votare sarà semplice, basterà mettere una sola croce o sul simbolo del partito o sul nome del candidato all'uninominale, oppure due croci sul candidato e sul partito che lo sostiene o, nel caso di una coalizione, su uno dei partiti che la compongono. Non sarà valida la scheda nella quale c'è una croce su un candidato uninominale e una su un partito che non lo sostiene. Circa i collegi uninominali risulteranno eletti i candidati associati alla coalizione o lista che avrà preso più voti. Alla Camera, collegio di L'Aquila Teramo, si sfidano tra gli altri la sindacalista Rita Innocenzi per il centrosinistra, la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni per il centrodestra, Attilio D'Andrea per il Movimento 5 Stelle, Emanuela Pistoia per il Terzo Polo. Al collegio Pescara Costa Terramana, l'ex sindaco di Spoltore, Luciano Di Lorito per il centrosinistra, il capogruppo di Fratelli d'Italia in regione, Guarino Testa, Daniele Caruso per il Movimento 5 Stelle, Roberto Quercia per il Terzo Polo. Per il collegio di Chieti, Elisabetta Merlino del PD per il centrosinistra, il senatore uscente della Lega, Alberto Bagnai per il centrodestra, la deputata uscente Carmela Grippa per il Movimento 5 Stelle, Gaetano Luigi Fugliano per il terzo polo. Al Senato, nel collegio uninominale, la sfida è, tra gli altri, fra Massimo Carugno della segreteria del PSI per il centrosinistra, l'assessore regionale al bilancio Guido Liris per il centrodestra, Isidoro Malandra del Movimento 5 Stelle e l'ex presidente di TUA, Gianfranco Giuliante, per il terzo polo. Per il proporzionale si attingerà dai listini bloccati presentati dai vari partiti in base alle percentuali riportate su scala nazionale dai partiti stessi e il complesso gioco dei resti da valutare a livello nazionale per la Camera e su base regionale al Senato. Nel centrodestra sembrano sicuri di un posto il capolista Fabio Roscani e Rachele Silvestri di Fratelli d'Italia, la quale, candidata anche in altri collegi, potrebbe lasciare il seggio abruzzese al sindaco di Fara San Martino, Antonio Tavani. Luigi Deramo, capolista della Lega, buone possibilità per Nazario Pagano di Forza Italia. Nel centrosinistra blindato il seggio per il capolista del PD, Luciano D'Alfonso. Spera, dietro di lui, Stefania Di Padova, assessore comunale di Teramo. Pronti a giocarsela la deputata uscente Daniela Torto, dei Cinque Stelle, e il leader di azione in Abruzzo, Giulio Sottanelli. In competizione anche il segretario di Rifondazione, Maurizio Acerbo, capolista di Unione Popolare. Al Senato i favoriti per i tre seggi sembrano Etel Sigismondi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia, il capogruppo della Lega in Regione, Vincenzo Dincecco, e il segretario regionale del PD, Michele Fina. Se la giocheranno per strappare un seggio altri capolista, il presidente del Consiglio regionale, Lorenzo Sospiri, di Forza Italia, la senatrice uscente, Gabriella Di Girolamo, dei Cinque Stelle, e il deputato uscente di Italia Viva, Camillo D'Alessandro, per il Terzo Polo.